Però Moana, bellissima, sensuale, intelligente, tutto quello che di più ti posso dire, una cosa molto negativa nel porno è che tutto era meno che una porno star, perché Moana col sesso, cioè io ero la porno star, io ero quello che aveva la luce negli occhi, lei no, lei aveva una luce che brillava di tristezza. Io ho fatto tutti i film con lei, lei mi voleva sempre, lo sai perché mi voleva sempre? Perché mi diceva, tu sei l'unico che non sembra un porno star, nel senso che assomigliavo a lei, ero clean, ero faccia pulita, bravo ragazzo, arrivavo in America e i siciliani che erano i produttori, mi ricordo, mi disse Rocco, devi trovare uno spazio per lavorare con Moana, volete lì, se no non si sente a suo agio, e mi ricordo che avevo una scena prima della scena con lei, con due americane, vi ricordo che finisco la scena, Moana viene da me, oddio Rocco,